E' perchè voi state parlando e io devo giocare pure io ah ahia bravo boh a dopo bella ho trovato uno scaracca e mi compiato a decidimi due giorni io ho trovato un po' un paio il loro ma non mi compiato un colpo dragon non avvita e non ho perduto ok buono guarda quanta cazzo devi trovare io ho le bende fra anche io lo trovate aveva un pompa non è che aveva un pompa quello che ho uscito no aveva solo il primo ago che vorrei andare a prendere ho ucciso uno doppio edge sotto di uno ci sta gente ci ci vuole continuare a raffino oh ci sono dei zombie entrate entrate guarda papà bomba a ballerina sembrava io lì dragon seguimi andiamo qua davanti che ho messo tutto uno è morto tutto uno è morto tutto uno oh wow nice ci credo se non mi sembra vero ma te è vero ok io scendo brava dai fai dai anche io voglio faltare questo qua davanti a me vieni beh appunto dai corri corri ti cazzo palazzo l'hanno demolito ora è eliminato ecco era white c'è uno sulla sinistra stai attento mi servono colpi tipo un pagazzo porto ah ma l'ho chiesto tu c'è un medic che qua poi andiamo a pushar subito va ora sono messo bene eh mi sa che questa partita non vorrei che farla ma c'è posta io lascio giù una bella tanto ecco più non c'è raggi che c'ho un si si non c'è raggi 8 tu hai colpi di caccia si si caccia via c'è il nostro segno eh ok stai in questo palazzo qua davanti a noi io sono magino e cazzo è ok stai in questo palazzo qua non c'è più si 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 c'è ma dove può fare il palazzo copilazione ancora una bella miseria oh gente sulla montagna l'ho visto ma davanti a me c'è un altro ho messo one è one fra qui davanti a me ucciso un altro eliminato 10 kill ok c'è la mia fidata a k molto bella hai copi il raggio per caso no zero ci sono gli zombie qui però dobbiamo andare in safe andiamo in safe in la parina qua dal lago se incontriamo qualcuno da ammazzare giù entro me si sparano qua nel fiumetto cioè sparano i zombie non ti muore sali sulla battaglia è bello che non li vedo ok mi sa che è uno si è uno ma ce l'è un fottuto no fra guarda l'ha ammazzato lo zombie non ci credo c'è io che ho sparato in colpa non ci credo che vita di merda però ce ne vuole per farci ammazzare le izou ma me le ammazzano a me salve che fa un po' di sci va bene ciao Angela guarda quanto legno c'è vieni qua che c'è un botto di legno sono un botto di quelle di quel casino ciao 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 oh gente ma mi pusha eh io non ci so fidare lì però vieni qui dove so io no vanno di te oh è toccato oh è toccato oh è toccato te l'hai toccato eh oh fraga so due team fraga so due team eh non è toccato ok c'è ancora sono due team oh mio dio stanno chiedendo a terra bravo oh yes vale falò ce l'hai? c'è un 6 ciline vieni qua c'è un 13 ciline oh adesso mi diverto di questi raggi 3.10 le ho puoi raccogliere i tuoi raggi di quelli ok adesso mi giro io questo eh che da un volto è normale ok davanti a noi davanti a noi sopra la montagna il stato 24 24 ok ho fatto cadere da lì il stato oh 24 48 compagno il stato come ne buttare il stato 105 5 5 5 fra... è one fra... è one frappato no ho scappato eh sì sotto lì sotto lì dèo morto 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 oh fra le grenade 20 da dietro ok ok bravo da dietro eh che palle e da me sciolta bravo bravo oh yes stanno pigliando sto barretto ma cecchino ma cecchino ma cecchino ma cecchino col bastardo c'è una caraffa brah c'è una caraffa troppo parlo hai un paio di materiali eh aspetta no comunque non ne ho tanti c'è una caraffa c'è una cosa da lo giaccio c'è una cosa da lo giaccio a 100 no grazie a novembre c'è una cosa da la mia amica vedo la mia amica c'è una cosa ok, no va bene, ne ho tanti, ne ho 12 mi servono per ora andiamo in siffere hai trappole per caso? trappole? 6 31 31 quello non bello 20 ancora 3 7 non lo vedo scarsa questo vai figa con il dio è morto, è morto è morto bravo secondo te io mi facevo scappare questa kill si, si, pigliate grazie figa, 8 ho una benda no, non c'è niente qua c'è un coso ragazzi stiamo a rimanerare in abbastanza 900 di legno e non c'è niente in vacanza vieni, vieni, te lo divido grazie 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 di servono si, aspetta no, 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 no fatto malissimo cazzo 9 team abbiamo fatta quanti che il 8 siamo a 17 film conflito dio non riesco a abitare a boda e che una parte